Leggendario, come la sua storia. Elegante, come la linea dei suoi iconi. Genuino, come l'animo del suo popolo. Armonioso, come chi in questa terra ha imparato a stupire. Basta una fetta di pane per scoprire il gusto degli oli extravergine di qualità del Lazio. L'Italia è l'unico paese al mondo che può vantare oltre 500 varietà di olive e ben 48 oli extravergine DOP e IGP. Se pensi che gli oli extravergine siano tutti uguali, non sai cosa ti perdi.